La ex assessora regionale Anita Mauri di Noia, che stamattina ha rassegnato le dimissioni dopo l'arresto di suo marito e del sindaco di Trigiano con l'accusa di corruzione elettorale, a Mola in una foto del 3 novembre 2023, con il sindaco Giuseppe Colonna e il consigliere comunale Giuseppe, Pinuccio, Calabrese.